Ma le difficoltà produttive di questo film sono state molto poche, nel senso che è un film che ha al centro la scrittura, la recitazione, il lavoro degli attori, Fabrizio Bentivoglio, Barbara Ronchi, Tony, Andrea Sartoretti e tutto insomma il gruppo che ha contribuito a questa bellissima pellicola. E diciamo è stato tutto leggero, divertente e anche rispetto un po' ad altri nostri film non mi ricordo nessuna difficoltà, mi ricordo solo momenti tranquilli. Grazie.